il mio lavoro qui è finito e la guardia se n'è finalmente andata? una cassaforte incustodita, eh? arrivo subito nessun altro sta guardando, giusto? è tutta mia presto, a terra! si entra in azione forza, ecco ci sono continuo a tirare che ti guardi tu molto meglio sto per diventare ricco ci vuole solo il tocco giusto si wow che bello preso, furfante pensa in fretta oh, davvero? non ci siamo non ci siamo ora sono cavoli tuoi, amico questo gioco fa schifo puoi togliermele adesso? ero sicuro che la chiave fosse qui ero sicura che la chiave fosse qui non dirmi che l'hai persa scusa, non l'ho fatto apposta beh, questo gioco sta diventando molto reale si è lì il fermaglio possiamo usare questo se hai perso una chiave rompi un fermaglio in questo modo ora piega i pezzi allontanandoli e poi crea una linea dritta muovilo un po' e dopo un secondo o due voilà funziona adesso anche l'altra c'è mancato un pelo, eh? uffa, ci sono a cascata non puoi sfuggire per sempre, Brian oh, ma come sei carina stamattina, tesoro l'hai stirata? adesso siediti e mangia la tua colazione oh, la nutella è tutta tua un barattolo nuovo di certo il pane non mi servirà questa roba è troppo buona vieni dalla mamma è come mangiare caramelle per colazione il paradiso su un cucchiaio non riesco ad averne abbastanza oh mi sono macchiata il viso che pasticciona vabbè se no a che servirebbero le maniche ho quasi fatto oh, cavolo forse ho un po' esagerato beh, nella vita bisogna essere un po' matti ecco, così sembra più intenzionale così e fatto adesso ne voglio ancora Jennifer? chi sei? che cosa hai fatto a mia figlia? il mio cervello è in tilt ma quanto mi piace ehi, mi sta guardando mi serve del pane però non sono mica un animale il panino migliore di sempre è qualcosa di meraviglioso oh, mi sono macchiata il viso meno male che me ne sono accorta qui ci fu il nostro primo incontro lo ricordo come se fosse ieri sai potrebbe diventare dove ci baciamo la prima volta ok, va bene cos'è quel suono? è mia madre che ci fa al parco? non può essere vero che cos'è? perché fa così tanto rumore mentre dormo vattene non vedo l'ora di lasciare questa casa cerca di stare calmo non vedi che sono a letto ah ah, per favore stai scherzando è così divertente vorrei non avere le orecchie si sta sdraiando non mi libererò mai di lei c'è qualcosa di buono da mangiare qui? ci deve essere qualcosa un biglietto Ellie non toccare ma sono le mie preferite vabbè mamma ciao Ellie tutto bene oggi? ma che cos'hai? ti fa male la schiena? sono solo molto felice di vederti mi sei mancata così tanto non sospetta nulla non posso lasciarti andare ancora come sei dolce cara è stato fin troppo facile e ora mi riprendo queste Ellie la cena è quasi pronta già vuoto? ma non è possibile la mamma ha comprato le caramelle buone non credo proprio signorina ti rovinerai l'appetito questo è uno snack molto più sano sì per un coniglio no grazie un solo pezzo mica mi farà male oh ma riesci a vedere tutto niente non ce la posso fare ma ho fame ci sono ci sono attacca la treccia del nastro biadesivo togli la striscia protettiva poi prendi una caramella della stessa misura e attaccala sul nastro ci sta benissimo una volta fissata ruota la treccia per nascondere la caramella facciamo una prova aspetterò la cena ok? non hai preso le caramelle vero? non vedo niente non nascondo niente vedi? ti voglio bene mamma ha funzionato e tutto questo a nascondere mi ha messo fame ok ho scolato la pasta così e adesso nella pentola oh manca qualcosa guarda che buon formaggio e i pomodorini no no giù le mani ed esci subito da qui forse posso fare qualcosa con quello sì scolapasta vieni a me ok ce l'ho adesso mi servono erbe fresche e con fresche intendo finte le infilerò nei buchi riempio tutto lo scolapasta ci stanno benissimo ok i pomodori sono tagliati devo fare silenzio come una pianta ed ecco il formaggio la mia occasione devo soltanto svegnarmela via via il formaggio dove è sparito? ma dove? ehi aspetta che cos'è quella? è soltanto la pianta devo trovare il formaggio sì ha funzionato che buono di sicuro perderai questo round è tutta questione di polso oh no ho perso la palla e boom ti ho appena preso di nuovo a calci stupido gioco hai vinto un viaggio per perdentopoli vincere è davvero faticoso eh vediamo oh no ho un milione di chiamate perse che c'è? eh devo correre a casa eh ciao spero di non essermi cacciato dai guai wow stai facendo una festa mamma ho visto le tue chiamate e sono tornato subito sembra arrabbiata ti va di spiegare? eh scusa? cavolo così fame oh lo so sì spaghetti avanzati uno spuntino perfetto basta mettere il piatto nel microondi quando devi aspettare che qualcosa si riscaldi sembra ci metta un'eternità ma sono pronti perché questo piatto è così caldo? e adesso? forse questa volta Jake anche i bambini sanno che le cose calde bruciano metti questo guanto su oh wow sei così intelligente grazie mamma a volte è come un bambino piccolo ecco qui Jake è finalmente fuori dal microonde ammazza quanto era buono meglio ripulire piatto sporco nel lavandino e fatto oh ci sono così tanti piatti però sì dovrei dare una mano ho la spugna e mi serve il sapone che cosa? ho le visioni o Jake sta lavando i piatti oh mio che ragazzo bravo il mio bambino sta diventando un giovane così responsabile guarda le sue abilità nel lavare i piatti è così talentuoso neanche una goccia sprecata ogni piatto è più pulito del precedente li ha anche messi in ordine che figlio che ho sono così fortunata darò soltanto una sbirciatina ma che cosa sta facendo? sta mettendo un'intera bottiglia di sapone sulla spugna ecco perché consumo così tanto detersivo per i piatti che spreco tutto quel sapone è andato prendi questo spugna asciutta il mio prezioso sapone dammela subito tutti quei soldi sprecati che stavi facendo con tutto quel sapone? si può sapere? pensi che i soldi cadano dal cielo Jake? mamma ma che ho fatto? vattene subito ha funzionato niente più faccende per me non mi lascerà più lavare i piatti non mi lascerà più lavare i piatti